Vi presenta questa grande opportunità. Non devi più cercare, non si può andare oltre questa bellissima casa. Comprende una cucina eccezionalmente arredata che renda semplice la preparazione dei pasti. Ampie camere da letto che vi farà sentire comodi e rilassati. Il meglio della vita è dell'intrattenimento all'aperto, un ottimo modo per finire la giornata. Fissate un appuntamento al più presto per vedere questa casa.